Musica presentando 90 centavos di amparo buco come dentro buco amara meno si te come buco delante però ti invitato si te acorda arriva il presentatore molto come la singhia buco non sei ti ho credito tanto di casse jp io amo buco non sei capace di più felicità di un bel cd di più come se deve andare a fare poco con il signo è davvero importante segura segura siccome è un'altra traccia ria tanto ma si è vera puntual no, non è un applauso io ho applauso però io non ho capito ma io ho capito ma io ho capito ma io ho capito non ho capito ma io ho capito io ho capito ma io ho capito il spirito di Pasco è come la trinta di novembre ma io ho capito il nostro paese non è un po' applauso la visione può essere qualche anno non è qualcosa e il nostro paese l'altro è il passato atto quanti anni ho capito noi abbiamo capito il nostro paese è il dottine Sì qui siamo sbagliati al festival. Inotaque siamo sbagliati a 4 volte! Non si subito di essere alla fine! E noi stiamo diventando essere attraverso questo. Perchè ci cambiano! E noi stai passando questo. Che ci sono persone oggi non sono fatte quando lascia? Ci sono esforzati! E noi siamo passati a Pascondo... ed è un Papa Pasco di Timo... Ma che potre questa pagina, vorreiania quando propone la prima, ora abbiamo chiamato? Si, ma ci sono state. Ah. Ok. Per essere insieme alla morte, ci saranno la nostra panna con un pollo dei bambini, ci saranno i frutti, si saranno i bambini. Ci saranno la loro panna con un pollo dei bambini, ci saranno i bambini. Ok, se non possiamo fareookie, assegno che abbiamo fatto in quarantà, se non sogaro il piatto? un shot massimo, tu sei che ci sono un'expo. è un'expo. Tu sei che è sloft, non ti sono? Sloft è buonissimo e per decorare, anche con sloft, anche con i sloft, non posso decorare il estilo del fin di anno, per il carnaval, tu sei che ci sono un'expo. Quindi, l'expo sono diverse cose per dormire in casa, per fare una temporada di Pascua? Sì, ci sono diverse cose. Noi abbiamo una educazione gelata, educa molto a tutti gli studiatori di questo scuola abbiamo bisogno di divine oils, abbiamo bisogno di tradire le compagnie che sono buoni per finire, abbiamo bisogno di servire spontaneamente perché abbiamo bisogno di un pacchetto di piste, abbiamo bisogno di chianti perché abbiamo bisogno di un regalo di navideo, abbiamo bisogno di una house of beauty ri menere abbiamo bisogno di essenza, hai visto, abbiamo bisogno di una No, 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 no. Ho scopato. Così credo ai bambini. Ecco il corretto ovunque. Sí, non. E' di riparare. Ecco. Cos'è è successo? Noi abbiamo già già lavorato, stanno cercando i nostri pai e noi abbiamo ricordati, e hanno giovani e noi abbiamo già fatto ciberi le basi. E non hai già mai fatti? Certo, siccome. Noi abbiamo lavorato, abbiamo ancora di torno, e abbiamo frutti frutti. Noi abbiamo già, perché è tempo con cui si lo so. Iniziamo la verità di condividere, tutte le cose le 50% 50% Poi sarco e fare un tito Ma come prepara un tito con un aime Si Ora, mi metto una baita Sì, ora io lo andiamo in jacket Sì? Non abbiamo capito Ok non sono 5 giorni, non sono un pari minuti che metto costa 5 florini e in grado a entrata 5 florini del marcia di me l'ho odio di questo momento per noi per noi non ci non è stato il nostro amico jp 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 rapidamente che non sapevi ah e dove cucinare mi sono detto che mi sono detto che mi sono detto che mi sono detto che mi sono detto in casa di un altro, non posso portare una fiesta è stato un'inizio alla fine quindi gli ho detto che non sappiamo, non possiamo sapere il programma che ora mi ti Ok, Bikos Entertainment Center, ciao domingo ora, 4 di novembre, Bikos Entertainment Center, Все dicebo con tu pamięta, sape sape consit exacto. Butle muy casaliamo con la telemagrov, dunqueann beautiful de can所以呢, eh che è grande, Anyway, Rose, posso cologne alla元ra e likeよね, anche come facciamo i seri che noi siamo siamo sempre, e già viene, c'è lei non fa chiedere quello che vuoi fare un'altra cosa, guarda sì, che tu lo vede positivo, ciao! Grazie a tutti.